Allora, andiamo a fare la sfida epica, intanto l'iscrizione è gratuita, intanto ringraziamo Samoran che ci regala una carta, vediamo se riusciamo a vincere almeno tre di seguito, ma non ci credo, ah ecco il mio mazzo, non vincerò mai, non vincerò mai, vediamo un po', attacchiamo al volo, vediamo che c'è. Pagliudio, giudidio, sant, nemo, non è ma spondeva molto bene, mamma. è una vera brutta è una vera brutta è una vera brutta è una vera brutta, due ore è troppo forte è troppo forte questo mi rifanno attacca così e finisce questo lo sta aspettando che ci rimettiamo in golfiera questo lo sta aspettando che ci rimettiamo in golfiera o del allora mi sta andando malissimo grazie grazie che si ha fatto vincere abbiamo vinto almeno una volta come minimo vinci altre tre volte se no niente niente carta rara vediamo un po' non mi mando goppino non faceva così perciò aspettiamo a me se questi li stanno consegnando fa male fa male non ci abbiamo difeso contro quello non so cosa sia successo guarda cosa c'è le carte buone per contrastarmi bene sta giurando benissimo grazie a tutti 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 è sconfitta tutta l'ultima è andata malissimo ho i 3 sconfitti non è andata male non è andata male non è andata male questo gioca male non è andata male non è andata male non è andata male Ha abbandonato Meglio per me Meglio per noi E due vittorie Diciamo se riusciamo a vincere almeno una carta epica A dire di stoppare quel video Per cominciare Uno nuovo Ciao